Dai, svegliati che siamo in ritardo per il colloquio, dai! Siamo, sei in ritardo, io sono qui dalle sette e mezza! Ma dovevi svegliarmi alle sette! E t'ho svegliato alle sette, tu mi hai pure risposto! Perché ti ho detto? Ma fangolo, e poi è chiuso! Ma chi sei, col pigiama sei! E certo, non c'ho tutto tempo per cambiarmi, dai, svegliati! Quadretti o righe! Quadretti! Ma che? E allora, perché me le chiedi le cose? Perché le... Muoi ammiti! Vai piano, che facciamo l'incidente! Ma ti puoi muovere? Facciamo tardi al colloquio! Tacco stivaletto! Stivaletto! Tacco, non capisci lì, tu! Yeah, signori, pass! Che parlare ha sfilato, è finita nè! Perché sei fermo, mo? E perché è rosso! Ma cos'è rosso? Ah, quello è rosso! Beh, è rosso, mo, dai! È un rosso relativo! Lo dice pure Tiziano Ferro! È un rosso relativo senza macchie! Dai, muoviti! Dai, mo che c'è rosso! Aiutami, simuliamo il colloquio! Pronto? Salve, sono Titino Maroncelli! Lei parla inglese? Yes! Eh, mi traduco a gatti! Che z! Eh, lo usi in una frase! Eh, che cazzo vuoi da me? Yeah, sbring! Traduco una frase, yeah! Beh, siamo arrivati, forza! È tutta colpa tua! Sono le nove, tardi! Ho un'ora di ritardo! Mannaggia a te! La prossima volta prendo un taxi! Amore, lo sai che ti amo, sì, eh? Eh? Ma è che già è finito? No, 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 tutto è a posto! È solo che ho sbetto solamente il giorno e domani il colloquio! Andiamo a casa? Eh? Beh, amore? Amore! Prendi un taxi! Vafangolo! Vafangolo! uh oh